Il B, B, Roller Gun, è il risultato di una semplice modifica, apportata ad un vecchio doppio elastico, a sezione triangolare. Tale forma ben si adatta ad una trasformazione in Roller Gun, tramite innesto di una testata commerciale. È equipaggiato con asta da 6,5 mm doppia alletta ed elastici da 16 mm Megatex. Il video è il risultato di qualche azione di pesca. Purtroppo il primo tiro è stato effettuato in Tana. Il fucile si presenta maneggevole e con un buon brandeggio sia laterale che verticale. La linea di mira è molto intuitiva. Il caricamento viene effettuato con l'ausilio di un carichino da polso che non complica affatto tale manovra. Unico aspetto non del tutto gradito è che il fucile si presenta lievemente negativo in punta. Per un bilanciamento perfetto dovrebbe montare un'asta di circa 5 cm più corta. effettua, come primo test, un tiro lungo su un ossarago di non grosse dimensioni. Il tiro risulta oltre in modo preciso e potente. Tali sensazioni verranno confermate nei tiri successivi, dimostrando le buone caratteristiche balistiche del fucile. . That's it. Che apparello? Eh? Eh? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.